In studio, Viviana Sammito. Facciamo il punto in questo servizio. È stata eseguita anche nelle province di Monza, Brianza, Milano, Como, Pavia, Reggio Calabria, Catanzaro, Trieste e Udine, dagli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Monza, Brianza e dei comandi arma territorialmente competenti. Sono 30 le misure cautelari eseguite. Si tratta di 26 di nazionalità italiana e 4 di nazionalità marocchina. Lo stupefacente proveniva dal Sud America, prevalentemente dall'Equador e dalla Spagna e approdava celato nei container nel porto calabrese di Gioia Tauro per raggiungere in buona parte a Milano. L'associazione aveva la base operativa nel capoluogo Lombardo, dove uno dei principali indagati, una sorta di broker, si occupava di mantenere tutte le relazioni per concludere gli affari di droga, tenendosi comunque in contatto con i complici calabresi indispensabili per l'estrazione in modo sicuro della merce dal porto. L'inchiesta ha consentito di ricostruire innumerevoli compravendite di stupefacenti per un totale di 3.051 kg di hashish, del valore alla vendita di circa 12 milioni di euro, e 374 kg di cocaina, del valore di 11 milioni di euro. Parallelamente al traffico di droga è emerso un illecito commercio di armi da fuoco comuni ed armi da guerra. Gli indagati acquistavano le armi da un fornitore monzese, condannato all'ergastolo per omicidio aggravato ed associazione mafiosa, ma beneficiante di periodici permessi premio durante i quali sviluppa le intermediazioni per le armi. 500 invece, 1.000 euro, avrebbe fruttato la droga sequestrata nel territorio di Acate, 55 kg di sostanza stupefacente. La polizia ha arrestato due soggetti, un trentenne e un cinquantenne. Avevano appena dissotterrato da un terreno in stato di abbandono in contrada a Rinelli, ad Acate, due buste di plastica contenenti droga. Sono stati rinchiusi nel carcere di Ragusa, un albanese di 30 anni con precedenti, così come un cinquantenne di Vittoria con precedenti per associazione mafiosa. Sono stati arrestati per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata portata a termine dalla polizia del commissariato di Vittoria. Avevano droga del valore di 500.000 euro. I due infatti, alla vista della polizia, si sono dati alla fuga ma una volta raggiunti e bloccati sono stati perquisiti. Le grandi buste contenevano in sostanza 40,5 kg di hashish suddivisa in 405 panetti. Da controlli approfonditi sono stati trovati, all'interno del portacasco del motore sul quale viaggiavano, altri 14,5 kg di droga, sempre hashish, suddivisa in 145 panetti. L'intero quantitativo è di 55 kg. Da questi si sarebbero ottenute 50.000 dosi per un valore complessivo di oltre 500.000 euro. L'operazione, portata a termine dalla polizia di Stato di Vittoria, rientra nell'ambito dell'operazione alto impatto promossa dalla questura di Ragusa e che aderisce alle linee concordate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Catania Piazza Dante hanno arrestato un 38enne pregiudicato di Belpasso per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'auto sono stati rivenuti 8 kg di marijuana nella sua abitazione. È stato successivamente sequestrato anche un bilancino di precisione. È stato posto il 38enne agli arresti domiciliari ma su disposizione del GIP poi in fase di convalida condotto in carcere. Smantellata a Palermo, la famiglia mafiosa del villaggio di Santa Rosalia avevano delle grave infiltrazioni imposto nell'economia locale. Addirittura il boss Salvatore Sorrentino dal carcere dava ordini al figlio Vincenzo. Per tutti i dettagli sentiamo il servizio di Veronica Pulisi. Utilizzavano messaggi e direttive veicolate all'esterno dalla struttura carceraria. Il capo è indiscusso uno degli uomini d'onore più influenti all'interno di Cosa Nostra palermitana, Salvatore Sorrentino, che nonostante lo stato detentivo manteneva rapporti diretti e indiretti con i suoi storici sodali. A curare gli interessi mafiosi sul territorio è il figlio del presunto capo famiglia Vincenzo, anche grazie al supporto di un altro giovane affiliato che avrebbe svolto il ruolo di braccio operativo. Le decisioni strategiche sarebbero state assunte con l'infiltrazione e il pesante condizionamento del tessuto economico del territorio nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo da parte dell'omonima famiglia mafiosa. Una rete di controllo smantellata dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo che con l'impiego di 220 militari hanno dato esecuzione un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 33 soggetti, 25 sottoposti alla custodia in carcere, una persona destinataria degli arresti domiciliari e 7 della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali. Sono accusate a vario titolo di partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraude lento di valori al fine di agevolare Cosa Nostra e traffico di stupefacenti con l'utilizzo del metodo mafioso. 20 dei soggetti colpiti dalla misura cautelare risultano percepire direttamente tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza, beneficio che verrà immediatamente sospeso. Dall'inchiesta sono emerse forme di controllo delle postazioni per la vendita ambulante del pane, un vero e proprio monopolio della fornitura di fiori a favore di imprese ragusane, autorizzazioni per l'apertura di negozi, pressando incerenze nella conclusione di affari immobiliari. È emerso un traffico di cocaina dalla Calabria a volta a rifornire le piazze di spaccio palermitane del Trapanese con l'acquisto di un ingente quantitativo a fronte del pagamento complessivo di 700 mila euro. Disposto durante l'operazione il sequestro preventivo di 6 attività commerciali operanti nel settore della ristorazione e del commercio al dettaglio di genere alimentari e del trasporto merci su strada del Movimento Terra per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Oggi il primo consiglio d'amministrazione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, da Napoli al congresso della UGL Logistica e Viabilità. Il viceprever, ministro dell'infrastruttura e dei trasporti, Matteo Salvini, continua ad avvaluare la sua tesi di un ponte più green al mondo e che soprattutto garantisce la mobilità a tutti gli italiani. Facciamo il punto in questo servizio. Odiai no soprattutto quando riguardano nuovi colossali progetti, come quello della ponte sullo stretto di Messina. ha parlato a Napoli nell'ambito del congresso della Federazione UGL Viabilità Logistica, Matteo Salvini, che ha garantito che i cantieri saranno aperti entro luglio 2024. È la giornata del primo consiglio d'amministrazione della società stretto di Messina. Finalmente, ha dichiarato il vicepremier, ci sarà il diritto alla mobilità per tutti gli italiani. Il ponte sullo stretto crea lavoro e ricchezza, porterà l'Italia, gli occhi del mondo, ripulirà il mare e l'aria. Sarà una grande opera green, che costerà meno della metà di quanto è costato fino ad oggi il reddito di cittadinanza e servirà alle imprese di tutta Italia, oltre a rilanciare l'economia e il lavoro, l'agroalimentare e il turismo. Qualche giornale scrive Salvini al capriccio del ponte. Se io avessi capricci da 13 miliardi sarei una persona pericolosa per il mio paese. Però il ponte, magari 15 anni fa, sarebbe stata una grande opera di ingegneria lì in mezzo. Il ponte adesso, con 18 miliardi di euro di investimenti su strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e altri 18 miliardi di euro di investimenti in Calabria, è una logica economica, infrastrutturale, logistica, è un acceleratore di tutti gli altri investimenti perché permetterà a me e a chi verrà dopo di me di dire ragazzi, nel 2032 passa il primo treno sullo stretto, passa il primo auto, passa il primo camion, quindi bisogna aver finito i lavori di modernizzazione delle ferrovie fra Palermo e Messina, fra Salerno e Reggio. Io sono arrivato in ufficio e non c'era la progettazione dell'alta velocità fino a Reggio Calabria e c'era un curioso concetto di alta velocità che invece di venire giù dritta faceva un po' di zigzag. Io capisco le esigenze di Tizio e di Caio, però l'alta velocità deve essere veloce. Dal 7 luglio i servizi di emergenza urgenza saranno potenziati sulle isole eolie, in particolar modo a Lipari, Filicudie e Panarea. L'assessorato regionale della salute insieme alla SEUS 118 hanno disposto il servizio emergenza urgenza nelle isole eolie che partirà dal prossimo 7 luglio con potenziamenti a Panarea e Filicudi, in cui saranno operative per la prima volta due ambulanze, mentre la postazione del 118 a Lipari avrà un secondo mezzo di soccorso. A Panarea il servizio sarà attivato H24 con due autisti soccorritori e un'ambulanza che stazionerà nei locali e a Tigui la Guardia Medica, messi a disposizione dall'azienda sanitaria provinciale. Il mezzo utilizzato di proprietà della protezione civile del Comune di Lipari è concesso e incomodato d'uso gratuito all'ASP e lasciato in consegna alla SEUS che si occuperà anche della manutenzione. A Filicudi il servizio di emergenza urgenza verrà svolto dai volontari della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia presenti presso la sede della stessa come da convenzione con l'ASP messinese. L'operatività anche in questo caso sarà H24, stavolta con un'ambulanza elettrica sempre consegnata dall'ASP alla SEUS. A Lipari infine il servizio di emergenza urgenza già esistente sarà potenziato con una seconda ambulanza elettrica anche in questo caso di proprietà dell'ASP messa a disposizione della SEUS in affiancamento all'ambulanza attuale. La strage di Ustica è una pagina dolorosa e ancora buia nella recente nostra storia italiana lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 43 anni dalla tragedia. 43 anni fa la strage di Ustica in cui morirono 81 persone tra cui 13 bambini che si trovavano a bordo di un aereo che viaggiava da Bologna a Parermo e che precipitò proprio nel mare vicino Ustica. Ad oggi ancora non c'è una verità di quanto accaduto anche se le ipotesi sono tante. Secondo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella i risultati ottenuti spingono a non desistere, a ricercare i tasselli mancanti, a superare le contraddizioni e rispondere così al bisogno di verità e giustizia. La sera del 27 giugno del 1980 il volo di linea della compagnia aerea Itavia era partito dall'aeroporto di Bologna e diretto all'aeroporto di Palermo Punta Raisi, partenza che venne posticipata di quasi due ore a causa dell'arrivo in ritardo dell'aeromobile Douglas DC 915. L'aereo non atterrò mai a Palermo, precipitò nel martirreno spezzandosi in due. L'ipotesi più autorevole su quanto si è successo venne fuori nel 2007, quando l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Francesco Cossiga attribuì la responsabilità involontaria dell'abbattimento a un missile francese a risonanze e non a impatto, lanciato da un velivolo dell'aeronavale decollato dalla porta aerea Clemens, ma oggi, dopo ulteriori indagini, si propende per la porta aerea IFOC e che furono i servizi segreti italiani ad informare lui e l'allora Ministro dell'Interno, Giuliano Amato, dell'accaduto. Il missile era destinato, nelle intenzioni del lanciatore, a un velivolo libico su cui, a detta di Cossiga, si sarebbe trovato il dittatore libico Gheddafi. Tesi analoga e alla base della conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna civile al risarcimento ai familiari delle vittime, irrogata contro i Ministeri di Trasporto e Difesa dal Tribunale di Palermo. Nel 2018 la Cassazione ha condannato i Ministeri delle Infrastrutture e della Difesa a risarcire gli eredi del titolare della compagnia Itavia per il dissesto finanziario al quale andò incontro dopo il disastro aereo di Ustica. I due ministeri sono stati riconosciuti colpevoli dell'omesso controllo della situazione di rischio venutesi a creare nei cieli di Ustica, dove aeree militari non autorizzati e non identificati incrociarono l'aerovia assegnata al volo di Itavia. Voltiamo pagina, chiedono il rinnovo del contratto e anche la stabilizzazione i 70 lavoratori e operatori ecologici della GEMA, una delle due ditte che gestisce il servizio di raccolto dei rifiuti a Catania, oggi sciopero perché non sanno se dopo il 30 giugno potranno continuare a lavorare. Ce ne parla Sara Donzuso. Sono circa 70 i precari operatori ecologici che chiedono certezze sul futuro occupazionale. Venerdì 30 giugno scadrà il loro contratto e non sanno se esso verrà rinnovato e se verrà rinnovato a tutti o solo una parte di questi 70 lavoratori. Chiedono dunque risposte e chiedono anche che arrivi una volta per tutte la stabilizzazione. Oggi una protesta in Piazza Università dove hanno sottolineato come sia importante il loro lavoro e che ridurre il numero di operatori presenti in città significherebbe mettere Catania in difficoltà. Noi serviamo all'azienda, in questi sei mesi abbiamo veramente fatto il tutto, ci hanno fatto fare turni straordinari, ci hanno fatto fare tante cose per ripurire la città. Noi non ci stiamo più a lavorare così, non sappiamo, per esempio già ne abbiamo 27, il 30 uno non sa cosa fare e mi creda, parla a nome di tutti i precari, è difficile stare sereni. 70 unità che sono fondamentali e ne servirebbero di più? Secondo me, oltre noi siamo fondamentali, ma secondo me servirebbero ancora di più per la città che è veramente, specialmente il centro storico dalla parte di via della Concordia, zona San Cristo, quindi là è una zona un po' abbandonata a se stessa. Queste 70 unità sono fondamentali per il servizio, quello che chiediamo è che vengono stabilizzati da subito perché praticamente è la dimostrazione che non ne possono fare a meno. La Gemma ha più volte dichiarato che non fa fare doppi turni, bene la prova l'abbiamo avuto ieri sera con l'ennesimo ordine di servizio per fare dei doppi turni di notte e tra l'altro comunicato all'ultimo minuto perché è stato comunicato ieri alle 17 e anche se non erano i tempi i lavoratori si sono resi disponibili nell'interesse della collettività e nel rispetto dell'amministrazione. Il 5 luglio in Sicilia si testa il nuovo sistema di allarme, il messaggio di testo Italert, il nuovo sistema pubblico nazionale che consentirà di informare direttamente la cittadinanza sulle emergenze. Tutti i dettagli in questo servizio. La Sicilia tra le cinque regioni d'Italia che aderiscono alla sperimentazione del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale Italert. Mercoledì 5 luglio alle ore 12 i telefoni cellulari in Sicilia saranno raggiunti da un messaggio di test. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nell'isola suoneranno contemporaneamente emettendo un segnale distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Chi riceve il messaggio di test, riporta la nota della regione, non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio. L'invito per tutti che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno è quello di andare sul sito www.italert.it e rispondere al questionario. Le risposte degli utenti consentiranno di migliorare lo strumento. Non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione, il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti. Superata la fase di test, It Alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenze del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Maremoto, collasso di una grande diga, attività vulcaniche, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. Invito tutti i siciliani, sottolinea il Presidente della Regione Renato Schifani, a partecipare attivamente alla sperimentazione per consentire il miglioramento dello strumento. Speriamo di non dovere mai farne uso, ma dobbiamo essere pronti per evitare di farci trovare impreparati in situazioni di estremo pericolo per la popolazione. Partecipare al test è un dovere civico per tutti. It Alert prosegue la nota, non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà ad integrarle. Tra fine giugno e primi di luglio saranno effettuati nelle cinque regioni che aderiscono alla sperimentazione Toscana, Sardegna, Sicilia, Punto, Calabria ed Emilia Romagna ulteriori test per verificare le funzionalità del sistema. Sequestro amministrativo di circa 35.000 articoli non conformi e privi del marchio della comunità europea come penne, giocattolo, palloncini, adesivi, tubi, sparacoriandoli, ulteriori articoli di bisotteria come orecchini e piercing e finanzieri della compagnia di Caltagirona hanno ispezionato i locali di una ditta individuale gestita da una cinese nel comune di Ramacca. L'esercente è stata segnalata la Camera di Commercio del sud-est ed è stata anche sanzionata. Avremo la pagina dedicata al turismo. Le vacanze costano troppo. Tra le città che hanno registrato i maggiori aumenti per gli alloggi c'è Palermo. Diversi rincari però che riguardano non solo gli alloggi ma anche i pasti. Facciamo il punto in questo servizio. Caro vacanze per l'estate 2023 sono le previsioni del Codaconso che annuncia una stagione estiva di rincari del settore turistico con le tariffe e degli alloggi che salgono in media del 13,6% su base annua con forti differenze sul territorio. Sono soprattutto le città d'arte e le località balneari quelle che fanno segnare veri e propri rincari record con Palermo secondo l'Associazione dei consumatori che si piazza tra le città più care dopo Firenze. A ciò si aggiunge anche il caro trasporti con i biglietti aerei nazionali che segnano più 43,9% più 42,6% se si sceglie una destinazione europea più 36,8% una meta internazionale. Il trasporto ferroviario rincara del 3,8% mentre benzina e gasolio hanno ripreso la corsa al rialzo. Aumenti anche per i pacchetti vacanze, per bar e ristoranti. Anche i turisti confermano che viaggiare costa di più. Cosa costa di più? Il mediare, i ricordi, le beure, tutto. I prezzi degli aerei come li avete trovati? Normali, noi abbiamo prenotato due o tre mesi fa e andate e ritorno non abbiamo speso tanto, poi abbiamo viaggiato con tutta la famiglia. E per mangiare? Mangiare, ah, ci arrangiamo, mangiamo noi, ci prepariamo noi e così risparmiamo. It's expensive to travel. Yes. Costa tanto viaggiare, avete trovato prezzi alti? Sì, molto alti, sì. Però qui in Catania i prezzi sono giusti. Anche affittare una macchina, oggi costa di più di un anno fa. C'è una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco per parlarvi della storia di alcuni studenti americani innamorati della Sicilia e poi ancora anche San Pietro. Ancora ben trovato in studio, come anticipato sentiamo la storia di questi studenti americani innamorati della Sicilia. Sicilia is wonderful. Ce lo ripetono degli studenti di alcune università di Los Angeles impegnati in questi giorni in un tour della Sicilia per uno scambio culturale promosso ai docenti per conoscere cultura, tradizione, enogastronomia ed economia della nostra isola. Tra le tappe del tour anche Catania, dove estasiati hanno ammirato, grazie anche alla spiegazione di un'attenta guida catanese, i monumenti ascoltandone la storia. E poi tappa nei locali tipici perché non si resiste alle prelibatezze della tavola, così come loro stessi in coro ci dicono quando chiediamo quale il cibo che preferiscono. A promuovere questo scambio culturale un loro docente che insegna psicologia, unito all'americano che ha nel suo cuore la Sicilia. La Sicilia sta aprendo al mondo, vero? Come il turismo e questo è uno dei più grandi gruppi di studenti che sono venuti qua per due settimane a imparare la cultura qua. Io come il professore siciliano sono fiero di mia terra e che c'è questa opportunità di fare capire la ricchezza, la qualità di vita che c'è qua e come vivono in sopporto di questa qualità di vita. Venite da Los Angeles? Sì, giustamente. Che differenze hanno notato i ragazzi arrivando qui? Qua c'è più comunità e c'è apprezzare la vita ogni momento e questa è una cosa bella per loro. Ciao! Per anni oggetto di incuria e vandalismo, piazza Montana nella zona di San Giovanni Galermo a Catania viene restituita la città dedicata a Beppe Montana, il commissario di polizia ucciso dalla mafia. La piazza adesso è attrezzata e distinta in zone funzionali per attività sportive come calcetto e basket, parcheggio, spazi per il tempo libero e poi tavoli e panchine con pannelli solari e ricariche wireless per cellulari. I lavori sono stati finanziati grazie al programma PON Metro. Fervoli preparativi per la celebrazione del copatrono di Modica a San Pietro, mentre stasera c'è tanta attesa per il concerto della street band civica filarmonica. I festeggiamenti in onore a San Pietro devono poter suscitare nella comunità il senso di fratellanza e unione. La pandemia e la guerra hanno insegnato ad apprezzare l'importanza del fare del bene per arricchire e ritrovare se stessi. Con questo sentimento si è alzato il sipario sul copatrono di Modica a San Pietro, celebrazioni eucaristiche, manifestazioni culturali e musicali, prendono il via nel segno della sobrietà e della buona musica. I festeggiamenti di San Pietro non vogliono essere eclatanti, ma vogliono essere coinvolgenti, questo sì. E quindi la parola d'ordine che un po' ci deve animare in questi giorni è la parola fratellanza, la parola fraternità, la parola comunità, perché sono parole da un certo punto di vista abusate, ma poco usate nella realtà. E quindi vogliamo vivere questo San Pietro come occasione di stare insieme, come occasione di condivisione di ciò che nella semplicità abbiamo, di ciò che nella semplicità siamo. Fino agli anni 50 Modica era trevolta dai festeggiamenti con le processioni dei santoni, con San Pietro e altri santi con volto e mani in cartopesta altri tre metri, che sfilavano al corso Umberto. Ma prima già era il santone di otto metri che rappresentava un'agricoltora sorretto e fatto sfilare da un gruppo di produttori terrieri, che nel mentre sorseggiavano del vino. Ritenuto un rito quasi canascialesco, il vescovo di allora, Monsignore Angelo Calabretta, decise di annullare questo tipo di processioni ritenute ai limiti del blasfemo. L'idea però di Don Giuseppe Stella è quella di tornare alle origini, guardando al futuro. In onore a San Pietro torna a furor di popolo la storica banda della città, la civica filarmonica, che negli ultimi anni ha cambiato pelle, proiettandosi verso un reporterio di respiro internazionale con brani attuali nell'ambito di un'operazione di svecchiamento dai tradizionali canoni. La street band civica filarmonica stasera dalle 20 sulla scalenata di San Pietro farà rivivere attraverso l'orchestra l'emozione di una musica di altissimo livello, la cui magia è diretta da Sergio Battaglia, vincitore del premio AC Jazz, in finale, giusto per citare qualche riconoscimento, al premio Pino Massara, con partecipazione anche nei network nazionali. Le bande sono sempre un po' legate alle tradizionali marce, quindi questo è un repertorio che comunque va affrontato e va eseguito in situazioni un po' più laiche, però si adattano benissimo a un concerto dove comunque qua in questa scalinata insomma è sempre piena di turisti che apprezzano comunque una tipologia di musica un po' più internazionale. Io auguro a questa città, ad ogni cittadino, ad ogni fedele di Modica di operare per il bene. Si è tenuto un convegno per il restauro della terra sul Martìo di San Pietro ieri a Modica. Il martirio di San Pietro, la tela ritrovata, un convegno per approfondire le fasi di restauro ma soprattutto ciò che vedremo a seguito dell'operazione iniziata poco dopo il mese di gennaio quando nella chiesa di San Pietro a Modica fu ritrovata una tela del XVII secolo e dunque anteterremoto del Val di Noto. Un'importante scoperta cui il sacerdote Giuseppe Stella ha voluto dare maggiore impatto proponendo una grande operazione di restauro per poter restituire dignità ad una tela che era stata arrotolata e nascosta in una intercapedine e che era stata confusa in un primo momento per un tappeto. Durante il convegno la professoressa Maria Terranova ha illustrato le ultime ricerche storiche svolte sull'opera. Il dottore Rosario Puccio ha relazionato sullo stato di conservazione e sugli ultimi interventi di restauro e il dottore Valerio Petralia è intervenuto sul futuro dell'opera nel contesto delle iniziative di valorizzazione culturale svolte presso la parrocchia di San Pietro Apostolo con l'associazione La Via delle Collegiate e Petra Mazzara. Parliamo di un dipinto pre-terremoto, quindi parliamo di una parte di storia del nostro territorio che è ancora in parte oscura, che non conosciamo. In che modo si è intervenuti per ripristinare, per riprenderlo, per farlo risplendere? Si sta intervenendo attraverso delle velinature, attraverso dei rafforzamenti della tela che permetteranno alla pellicola pittorica di adagiarsi perfettamente sul suo supporto di tela e quindi nuovamente di essere protetto, confidiamo, per molti e molti anni. Dove ha trovato allocazione? È ancora un argomento di discussione perché anche la collocazione futura di opere del genere è qualcosa che ha bisogno di molta riflessione. Ancora di più nel soggetto, parliamo di un momento fondamentale a livello di iconografia per cui la sua naturale collocazione era e dovrebbe essere in chiesa. Ma dobbiamo anche però tenere conto che nel tempo l'iconografia della chiesa è cambiata, gli spazi sono mutati, dipinti nuovi sono arrivati e quelli del passato sono andati magari perduti, quindi ancora c'è una lunga riflessione sulla sua futura collocazione. Con questo servizio è davvero tutto, grazie per l'attenzione a voi tutti, ancora buona giornata. Grazie a tutti.